Ciao a tutti, oggi prepareremo la maionese vegana alla paprika. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 2 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte di soia, olio di semi di girasole, paprika, succo di limone, sale, curcuma e senape. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il sale ed azioniamo il bimbi per un minuto, 37 gradi, velocità 4. Azioniamo il bimbi a velocità 5 e senza togliere il misurino, versiamo l'olio sul coperchio e facciamo lavorare per 4 minuti. Al quarto minuto abbiamo fermato il bimbi, adesso dal foro del coperchio aggiungiamo la paprika, la senape, il succo di limone e un pizzico di curcuma. ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 4. la maionese è pronta, trasferiamola in una ciotola e lasciamola riposare in frigo per due ore prima di servire. maionese vegana alla paprika, si conserva in frigo per due giorni. grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti